Un caro saluto agli amici di Salerno Notizie. Che tempo farà in questo fine settimana e nella prossima settimana? Un fine settimana pievoso perché il vortice di bassa pressione che da più giorni insiste in prossimità delle isole maggiori si sposterà di più verso il basso tirreno interessando più direttamente la campagna. Quindi rovesci temporali diffusi sia sabato ma soprattutto domenica sia su Salerno che provincia rovesci temporali che saranno anche di forte intensità. Rovesci temporali che proseguiranno probabilmente in forma meno intensa e meno diffusa anche nel pomeriggio di lunedì. Poi da martedì a venerdì dovrebbe essere bel tempo seppur un po' nuvoloso. Le temperature saranno per lo più in calo sia sabato che domenica e resteranno al di sotto della meglie per tutta la settimana su valori intorno a 23-25 gradi nei valori massimi. Termino qui un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.